Il video recente alla vita indiretta è il simpatico e bravissimo Marco Columbro. Vi ricordo che quest'anno la vita indiretta è condotto da Lorella Cuccareni e Alberto Matano. Tuttavia, Lorella avrebbe detto proprio a Marco, tutti pensavano... Ma ecco che Marco Columbro avrebbe detto, ti ho regalato... In camerino l'ho fatto per ben 15 anni di tempo. Parole che avrebbero sorpreso e non poco la bella Lorella che avrebbe detto meglio... Non è mai successo niente, diciamo la verità. Era un gran provolone e non ci si poteva fidare. Noi, solo una grande alchimia. I ricordi sono passati nel corso del tempo e sopra la intervista su Raiuno e hanno lasciato lo spazio, il tempo, a più recenti consapevolezze raggiunte da Marco Columbro che ebbe un problema di salute di cui però non voglio parlarvi. E Marco avrebbe detto... Grazie alla malattia ho acquisito più sensibilità. Ho sentito vicino molti di voi e anche tu mi sei stata vicina. Ho trovato la forza per soprare quel difficile momento e ho trovato l'energia della famiglia e degli amici. Tutto questo mi ha lasciato senza parole. Ho toccato con mano questo affetto a tutto l'amore che ho ricevuto. Insomma, un Marco Columbro diretto probabilmente che si è commosso con grande facilità e con grande equilibrio ma comunque soddisfatto di aver avuto una cara amica e di avere L'Orella Cuccarini che gli sta da vicino anche in momenti difficili e drammatici. Grazie a voi... Non vuole eledere la privacy di Marco Columbro né di L'Orella Cuccarini ma solo informare. Grazie a un saluto caro da Neandro.